Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 22 dicembre e vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Come al solito, caos nel governo o lite nel governo. Fate un po' voi qual è il titolo che più può assecondare quello che è successo ieri sul governo, perché quello che è successo è che si sono messi d'accordo sul nulla, salvo intese, altri documenti invece non sono stati approvati. Il punto fondamentale è che avevano fatto una normetta all'interno del decreto mille proroghe, che si tratta e dovrebbe prorogare delle norme e quindi dovrebbe non essere un decreto ordinamentale, insomma volevano far fuori le autostrade, le concessionarie autostradali per l'articolo 33 del mille proroghe e ovviamente a questo si oppongono il partito di Renzi, ma anche il PD vuole dire la sua, perché volevano fare un piccolo colpo di mano, anche se c'è da dire che il ministro dei trasporti, mi sembra Paola De Micheli del PD, che non è esattamente una pasdaran grillina. La Bellanova, la capodelegazione di Renzi al governo, dice si possono ritirare le concessioni attraverso questa norma che sarebbe stata introdotta, si possono revocare le concessioni anche perché si trova un'alternativa, non necessariamente per i risarcimento, insomma si crea un pasticcio giuridico mostruoso, ovviamente il fatto ci va sopra e dice Renzi con i ras dell'asfalto, cioè è una marchetta che farebbe Renzi a Toto, a Benetton, chi altro c'è? Quello di Nord, a Gavio e in realtà invece su Repubblica c'è un altro punto di vista e cioè cosa succedeva con questa norma di articolo 33? Che si dava la possibilità all'ANAS, azienda pubblica che già controlla 1600 km di strade e autostrade italiane, l'ANAS si sarebbe surrogata alle concessionarie se gli avessero revocato le loro concessioni, tra l'altro con un nuovo computo degli eventuali indennizi, una cosa molto complicata, ma il punto fondamentale è voi, volete avere l'ANAS che gestisce tutte le strade italiane? Soprattutto oggi se leggete Repubblica leggete che cos'è l'ANAS, è un'azienda grande, grandissima, sottoposta alle ferrovie dello Stato e che in realtà ha delle lentezze, delle burocrazie monstruose, già deve fare moltissimi appalti, ma non è che una volta che le robe vanno all'ANAS non crollano, non cadono, i viadotti non ci sono, ci sono ma sono soltanto pubblici, quindi ve la potete prendere soltanto con il pubblico e non il privato. L'altra grande questione che ieri non è passata è il cosiddetto piano del digitale, cioè quello che dovrebbe cambiare, il futuro del digitale eccetera, sono 28 paginette, ci raccontano oggi i giornali, ma c'è un problema che nell'ultima paginetta tra i 18 che vengono ringraziati c'è la Casaleggio Associati per la collaborazione che fa nella stesura di questo piano digitale. Allora tutti quanti, Franceschini per primo si alza e dice scusate, ma non vi sembra un po' strano? Toc toc, ministro Pisano, che voi fate un piano sul digitale in un mega gigantesco conflitto di interessi, dichiarando pure che lo fate con la collaborazione di Casaleggio, ma siamo impazziti? In realtà ovviamente per il fatto quotidiano, ma che volete che sia, è una cosa incredibile, poi vi faccio sentire delle cose, cioè il doppio pesismo del fatto quotidiano, il giornale del partito di Pietro, di Di Maio, di Casaleggio, del Movimento 5 Stelle e soprattutto di Conte, è incredibile, quelli ringraziano e fanno il piano con Casaleggio e il fatto che ha rotto i coglioni tutta la vita sui conflitti di interesse e qua zitto e muto. Tito oggi su Repubblica ovviamente la prende dal punto di vista di Repubblica e cioè sento puzza di berlusconismo perché c'è tutto un gigantesco conflitto di interessi che avrebbe avvantaggiato la Casaleggio Associati. Insomma è una cosa che ognuno può leggere come gli pare, poi ci sono due altre cose che vi leggo d'occupo, ma non basta perché oggi sul giornale c'è una cosa fantastica, c'è la Mobispa. Allora la Mobispa dovete sapere è la società di onorato che ha 72 milioni di euro di concessioni pubbliche ogni anno, va bene? Bene, la Mobispa avrebbe fatto dei bonifici e l'antiriciclaggio li avrebbe messi in evidenza a favore di chi? Del Movimento del 5 Stelle, del blog 5 Stelle e di Casaleggio. E che cosa avrebbe fatto questi bonifici, uno da 120 mila l'altro da 600 mila euro per la Casaleggio? Per fare alla Casaleggio Associati gli facesse degli spot, dei contenuti redazionali. Vi segnalo che fino a pochi mesi fa la Mobispa era in rischio fallimento per le istanze del creditore Unicredito al Tribunale di Milano, la stessa Mobispa che ha fatto pubblicità da tutti quanti, non voglio dire nulla contro di loro, dico soltanto che i titolari di una concessione di 72 milioni fanno finanziamenti per pubblicità e marchette, come si dice, native sul digitale, lo fanno nei confronti dell'associazione e nel blog del principale partito italiano e il fatto quotidiano zitto come tutti gli altri. Io la trovo una cosa incredibile, incredibile il fatto che nel frattempo si occupa di un summit che ci sarebbe stato tra i mafiosi e le madamine che vogliono la TAV a Torino. In quel caso poi se vai a leggere il pezzo, come lo leggi, è in realtà un incontro, un convegno fatto per la CTAV di Forza Italia, che mi sembra si possa ancora fare, a cui hanno partecipato alcuni che sono oggi indagati negli arresti dell'andrangheta che sono stati raccontati ieri, partecipano al convegno, non danno una lira, non danno un contributo, il partito non cambia idea, diventa lo scandalo in prima pagina, mentre se Casaleggio prende i soldi da Mobi e che poi dopo ha una concessione di 72 milioni che la stessa maggioranza deve ovviamente rivedere o non rivedere, tutti zitti e muti. Ma va bene così, nel frattempo c'è un altro piccolo problema, che c'è un caos nei grillini, lo leggo sul Corriere della Sera, che è straordinario. Vi ricordate i grillini che restituivano i soldi, che ridavano al partito tutto quanto? Su 101 senatori, 5 senatori hanno restituito i soldi, su 216 deputati, 10 deputati hanno dato il Restitution Day, ve lo ricordate quella grande, enorme cosa? Non gli danno manco più i soldi a quello là, a Di Maio, che nel frattempo oggi fa un'intervista favolosa sul sole 24 ore che dice la vigilanza, bisogna riformarla, il Parlamento deve dire la sua, la deve fare autocritica, insomma una specie di purga staliniana nei confronti della vigilanza che ha commesso moltissimi errori. Certo, farselo dire da Di Maio è quello che si meritano evidentemente dopo le cazzate che hanno fatto e l'incapacità che evidentemente hanno dimostrato in questo Di Maio ha ragione nel gestire pessivamente le crisi bancarie in questo paese. Renzi viene intervistato oggi da Repubblica, oltre a Di Maio e sul sole c'è un Renzi intervistato da Repubblica che da Cappellini, un'intervista molto bella in cui però il titolo è significativo di tutta l'intervista, non siamo al governo per votare le scandalose leggi del Movimento 5 Stelle che ci portano nel caos, nel frattempo però è al governo e nel frattempo nelle prime due righe, caro Renzi, tu scrivi, Cappellini te lo chiede chiaramente, tu scrivi la legislatura arriverà a scadenza naturale nel 2022 e leggeremo il Presidente della Repubblica, tutto questo per non far arrivare al governo Salvini e il centrodestra e volere un altro Presidente della Repubblica che deve sempre comunque essere di sinistra in questo paese, a parte Luigi e Enaudi. L'altro terzo operatore è Salvini di questo grande mercato della politica italiana, lì se ne occupa del congresso che ha svolto ieri a Milano, chi se ne deve occupare? Gad Lerner su Repubblica che ci spiega una cosa modestissima, ci dice si tratta dell'unico partito al mondo in cui c'è il nome del leader che vede prima il nome del leader nel suo simbolo, ovviamente questo non è vero e ovviamente nelle prime righe i paragoni sono, non so, neanche Peron ha fatto una cosa di questo tipo, è il delicato pezzo che vi aspettate dal grande cronista Lerner che quando si tratta di Salvini parla di Salvini con modi equilibrati direi. Vi segnalo anche molto arrabbiato, molto poco equilibrato, anche Sallusti oggi sul giornale contro Renzi, perché dice ma come Renzi? Ma c'è fatto un'altra querela, una querela in realtà secondo me non è una querela ma una richiesta di risarciamenti civili come ha fatto tutti quanti noi, ma il punto fondamentale è ma come sei veramente? Dice alla fine ti dimostri per quello che sei, per quello che noi non abbiamo definito, cioè un bullo e comunque il tuo è un metodo da furbetto e da estersore, non da potenziale statista, tra l'altro forse ti sei reso conto che siamo stati tra i pochi a difenderti nei confronti di tuo padre, di quello che avveniva, devo dire che Renzi è così, è lo scorpione che punge la rana che lo sta postando per il lago, è un classico suo, stupenda l'intervista di Zalone oggi ad Aldo Cazzullo su Corriere della Sera in cui dice che siamo io razzisti e psicosi da politicamente corretto, ve la segnalo, ho votato Berlusconi nel 1996 e quindi ha perso, ho votato Renzi non so quando e quindi ha perso, mi piace votare e stare per i perdenti, è una intervista molto divertente a tutto tondo, che Cazzullo fa a Zalone che si dimostra essere un uomo intelligente e anticonvenzionale, senza dubbio non politicamente corretto, ma lo dice in maniera chiarissima anche dicendo chi ha votato, i due meno politicamente corretti che potesse trovare per quel suo ambientino diciamo di fenomeni a cui partecipa. L'errore dei dazzi di Trump è l'ultimo pezzo che vi segnalo, 164 paesi si erano messi d'accordo nel evitare guerre commerciali, spiegano già Lesina, ma il punto fondamentale è che è una scorciatoia come quella fatta negli anni 30 di pensare di fare la guerra commerciale per risolvere i problemi, quella roba lì ci portò alla grande crisi e depressione, da crisi finanziaria si arriva alla grande depressione, come non condividere il punto di vista di Lesina e Giavazzi con un piccolo dettaglio, e cioè che il World Trade Organization, cioè l'organizzazione mondiale dei commerci, qualche piccolo errore di valutazione decisamente l'ha fatto, penso ad esempio che cosa ha voluto dire, come è stato rotto l'equilibrio montale con l'entrata senza limiti e senza freni della Cina fantastica d'Italia, guardate c'è un piccolo notizio di dettaglio che riguarda l'eco bonus sui motorini, vogliamo tutti avere il motorino verde, il motorino elettrico, sono d'accordo con voi, già l'anno scorso abbiamo fatto una finanziaria per il motorino elettrico, abbiamo dato 10 milioni di euro per finanziare fino al 30% dell'acquisto del motorino elettrico, tra l'altro 10 milioni che volete che siano, sapete quanti soldi sono stati spesi per il motorino elettrico? Un milione, per il casino solito della burocrazia italiana, dei permessi, delle digitali e forse anche del fatto che i motorini elettrici con quello che costano e quello che rendono certo non sono così appetibili per il pubblico italiano, ma lo sono per un titolo nella finanziaria, direi che per oggi è tutto, ho fatto abbastanza sul sito nicolaporo.it tutte le altre notizie di giornata, ciao!